Tangenziale Sud di Sondro, se ne è parlato oggi in provincia, Palazzo Muzio, con le istituzioni, ANAS, Ferrovia Italiana, insomma tante cose da discutere per quanto riguarda il progetto che non è ancora definitivo, c'è ancora la conferenza dei servizi da portare avanti, ma certo non mancano i dubbi le perplessità, anche se è una cosa certa, l'opera questa è, la ferrovia non si potrà spostare, i tempi che ci separano dalle Olimpiadi di Milano Cortina sono strettissimi, per cui margini di manovra sono veramente ridotti al minimo. È una soluzione a nostro avviso di poco momento, intanto mette una pietra tombale sulla prosecuzione della tangenziale per come era stata intesa fino ai primi anni 2000 e poi per quanto riguarda l'abitato di Montagna Piano non ci tutela nella possibilità di avere una bretella di apertura che va verso Tirano, mentre è stata gentilmente concessa quella che arriva su Sondrio. Diciamo che ci aspettiamo una elaborazione un po' più strutturata, un po' più in dettaglio per i prossimi incontri, sono richieste di ragionevolezza, ovviamente orientate a tutelare la cittadinanza di Montagna Piano. La tangenziale di Sondrio da 30 anni attende il superamento del passaggio a livello che in zona Trippi tanto ha fatto discutere. Non da meno sono le prese di posizioni, positive o negative, legate all'intervento che rientra nelle opere di Milano Cortina 2026. Difficile trovare una soluzione condivisa da tutti. A Palazzo Muzio l'incontro fa il presidente della provincia Aglio Moretti, i vertici di Anas, il commissario straordinario alle opere olimpiche Luigi Valerio Sant'Andrea, il tutto per rillustrare il progetto. È un progetto che in qualche maniera risolve la criticità del passaggio a livello, del superamento del passaggio a livello e per contro crea altre piccole criticità che stiamo cercando tutti insieme a partire dal commissario Luigi Sant'Andrea che era oggi qui per spiegare al territorio il lavoro che stanno facendo. Il progetto consta di una rotatoria su Via d'Europa per garantire tutte le manovre di entrata e uscita, perché attualmente lo svincolo di Via d'Europa c'è solo un'entrata e uscita a destra, un viadotto di circa poco meno di 300 metri a 5 campate, 250 metri a 5 campate, che permette di scavalcare la ferrovia, e uno svincolo sottostante costituito da una rotatoria e due rampe di accesso che permette di raccordare la nuova viabilità e la viabilità esistente. L'intervento fa parte del pacchetto olimpico e come ha ricordato in più occasioni l'assessore regionale Massimo Sertori, quel vincolo temporale va rispettato. Stiamo in fase di approfondimento del progetto, evidentemente in ragione dei tempi autorizzativi e dei tempi di cantiere che abbiamo stimato è circa due anni. Riguardo quindi alle ricadute sul territorio di Sondio io ho chiesto due cose, la prima è che sia garantita un'uscita per chi proviene da Tirano verso il Trippi e la seconda è che venga completato lo svincolo di Via Europa che attualmente è Monco perché ha due sole direttrici su quattro. Come verrà completato lo decideranno i tecnici ma a noi serve come città di Sondio che questo svincolo venga completato perché i flussi di traffico in entrata e uscita verso l'area artigianale e a maggior ragione probabilmente in futuro quando l'area ancora oggi a verde del Comune di Montagna verrà edificata, i flussi di traffico graveranno su Via Europa e noi abbiamo bisogno di quello svincolo.